Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 direzione Bologna chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio. Sempre in A1 code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPILI code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!